Io odio aspettare Come quando ci devi aspettare l'autobus, capito che stai lì? Aspetta, è uguale Mi sgranchisco un attimo Che ridere Jake ha fatto high intensity, proprio Senza aspettative, come si dice? E' solo una fascia sfilata Devo andare Chi è che me lo dice? Me lo dice lui? Che cosa ci porti oggi? Oggi porto un mio brano, si chiama Pazza Lunatica Perfetto E' un po' un invito a non aver paura di tirar fuori le proprie follie Ok, allora tira fuori queste follie e in bocca al lupo Grazie Ok Sono una pazza lunatica, fanatica, antipatica Ti sembro un po' patetica ma sono psicopatica Psicopatica E perché sì, perché no, ti amo dopo no, non lo so Vedi un po' che alla fine sono i non e-nof Che sono i non e-nof E sono chill, molto free, se la vi, calmati, odiami, amami Credimi che sono un'atruscovi La storia nei pulmoni E ti animi, 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 ti animi che sto andando fuori Che sto andando fuori E la sciamì, 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 non sono incondizioni Non sono in condizione Eh? Che ti animi, ti animi Ti animi, ti animi, ti animi Ti animi, ti animi Che sto andando fuori Che sto andando fuori E lascami Lascia di me, lascia di me Non sono in condizione Non sono in condizione Ho trovato tutto interessante che rispecchia esattamente quello che tu volevi far intendere, cioè che sei sciroccata. Oh sì, yeah. Sì, si vede. No, lo dico con l'accezione più interessante del termine. Che mi porta a un dilemma esistenziale sul che cosa fare dopo. Ma l'avete detto, tienimi, 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 che sto andando fuori. Vuoi mica farlo andare fuori. Che sto andando fuori. No, secondo me non so, non so se devi andare fuori, io non credo. È meglio saresti dentro. Grazie, grazie. Sei dentro quello che fai. La produzione era super interessante, questo basso ipnotico, ripetuto. Sono anch'io d'accordo che a livello ritmico eri molto, molto figa. C'è una parte di preparazione, c'è una parte di consapevolezza, c'è una parte di teatro, comunque, di interazione col pubblico, però non è finto. Questo è quello che voglio. Cioè dipende da chi lo fa. Nel tuo caso è la molto efficace. A me è piaciuto tantissimo il feeling che avevi sull'inizio, proprio a livello di impostazione vocale un po' più bassa. Anche il finale delle quartine, no? Quando facevi, non sono in condizione. Non sono in condizioni. Per me, hai capito? Per me quello strasci, con l'imperfezione, quello strisciare nel tempo strano, per me è nuovo, hai capito? È fuori da ogni schema, fuori da ogni regola. Io che ho fatto bandiera di questo, di cantare come vuoi, non posso dirti che non mi piace. Per me è un ovvio sì, signore. Grazie. Per me sì. Per me sì. Grazie. E sì, anche per me. Grazie. Grazie a tutti. Quattro sì. Grazie, 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 grazie. Occhi e gradini, oh, mamma mia. Sembrava Zilia Banks. Certo. Questa, sì, sì. Questa può fare il lavoro mattissimo. Oggi è il mio giorno fortunato. Grazie. Di qua. Ciao.